Perfetto, adesso quello che posso dire, ho parlato fino adesso della parte creativa un po' più fantastica dei miei lavori, vorrei avvicinarmi a qualcosa invece di rapportato, non dico al concreto perché le altre cose per me lo sono, però un altro aspetto dentro la mia professione è quello di aver avuto la possibilità di entrare in rapporto a delle aziende, a delle realtà industriali particolari che mi hanno permesso di approfondire un altro aspetto per me fondamentale e importante dentro tutto quello che faccio ed è, in questo caso mi riferisco a un lavoro anche di promozione, di documentazione, di struttura, di video per delle proposte o di prodotti particolari o di oggetti comunque immessi sul mercato. Ovviamente all'inizio questa cosa ti apriva un bivio nella professione, un creativo, un artista, cioè viene visto in un certo modo nel momento che ti apri a delle altre cose, insomma magari c'è il rischio di una grande dispersione, c'è il rischio di un impoverimento, c'è qualcosa che però non mi ha mai frenato perché io le sfide le ho sempre accolte e ci sono stato dentro tentando insomma di comunque avere un equilibrio, non so spiegare, però diciamo il rapporto con il mondo dell'azienda, quindi la produttività che non è semplicemente quella regata a un concetto artistico collocato in uno spazio che può essere l'installazione in un sito di un certo tipo o in un museo, in un teatro, in un luogo aperto dove vogliamo noi, ma è quello anche di convivere con una realtà produttiva aziendale, quindi prendere un prodotto, documentarlo, farne un lavoro e proporlo. Ovviamente le aziende devono avere dei requisiti, un'apertura particolare, io penso nel momento che scegli un autore e fai una proposta comunque lo rispetti, quindi c'è una specie di fiducia reciproca, loro mi aprono a un linguaggio perché magari gli interessa quel tipo di linguaggio, io ovviamente all'interno del mio piccolo, in questo caso anche con Luca, tentiamo di ottimizzare dei principi, quindi come dire fare uno studio attento sulla filosofia dell'azienda che come dicevo prima c'è un grande cervello e poi questa ramificazione come se dei nervi muove un corpo, per me l'azienda è una persona precisa che pensa in un modo e si muove nel mercato in un contesto, questo contesto va rispettato, non va minato, non va alterato, ma io divento il filtro di quella qualità che loro vogliono mettere in gioco, vogliono mettere in campo dentro, passando per il mio processo di lavoro. Quindi vi farò vedere anche delle cose aziendali, non so se quelle che vediamo sono le più rappresentative perché vado un po' casuale rispetto, io sono un grande improvvisatore anche rispetto a questi incontri qui, quindi non mi sono preparato una scaletta metodica in qualcosa che dice devo passare, vado un po' per quello che leggo e propongo, però per me è qualcosa di significativo, che mi piace molto, che porta avanti con realmente lo stesso piacere che mi può determinare un'opera di un certo tipo, ho uno spettacolo teatrale, un'opera lirica dove io adoro la musica, adoro la musica lirica, adoro tutto, ma nello stesso tempo anche vivere in azienda con delle persone concrete, torno a dire che il realismo della vita, delle situazioni per me è fondamentale dentro quello che faccio per poi partire da lì e portarlo da qualche parte che diventa più. Allora io in questo caso parto a caso, parto con un lavoro molto veloce fatto su un'azienda farmaceutica, ovviamente sono materiali un po' riservati questi, magari ne faccio vedere alcuni perché questo in particolare è molto interno come video e in pratica questo è l'inizio di questo lavoro, poi tra l'altro una cosa molto bella, molto bella per me chiaramente, è che alcune volte parte di queste immagini, io le giro con un'ottica, siccome nel nostro campo i lavori non sono così immediati, io so già cosa vado a fare fra un anno, so già cosa vado a fare per due anni a volte, perché sono dei contratti a lungo termine, non so dire c'è un progetto con una collaborazione con un regista da fare a Lisbona, in questi giorni ci stiamo vedendo, tornerò a Roma, ci saranno degli incontri, vado io in Portogallo, cominciamo la valutazione dell'idea della costruzione dei materiali eccetera, per lo spettacolo è fra un anno, quindi io quando vado dentro un'azienda particolare e vedo delle situazioni che mi piacciono, tento di farle pensando anche all'idea dello spettacolo, come dire, le situazioni sono un flusso, io ci muovo dentro come se fosse un unico grande flusso dal quale poi isolo degli elementi, quindi il mio filtro per quella ripresa lì, emozionalmente lotaro a un certo risultato che poi lo rimetto nell'azienda o no, quindi comunque giro qualcosa che mi permette di avere un'escursione più ampia rispetto all'idea poi del prodotto finale. E questa inquadratura qui, questa situazione iniziale, era pensata, a parte per quest'inizio qui, perché mi è piaciuto sul posto, era devastante lo spazio, perché un ex, non è un ex, è un magazzino, scusatemi io voglio togliere il testo, ecco qua, in pratica era devastante quest'inizio, era bellissimo perché in questo magazzino abbiamo fatto svuotare un po' tutto, sono rimasti questi scheletri di ferro che sono un po' i sostegni dove vengono poi con delle basi magazzinate, quindi questo svuotamento, c'era questo piano sequenza molto lungo e questo movimento di luce fatto da questo carrello che portava su nell'azienda tutto, ed era uno per un inizio che sono molto legato all'idea della costruzione dei wireframe, come abbiamo detto, di questa gabbia di ferro che crea questo movimento, e qui era realistico, in più quest'immagine era anche un po' rapportata all'idea dell'inizio di questo spettacolo quando questo coreografo va nello spazio, gli si muovono queste ombre, si allarga, diventava tridimensionale, diventava devastante, tanto più che molta della critica ha pensato, in quel caso lì, che fosse realmente lo spazio scenico, teatrale, e l'inizio delle luci su hanno fatto una critica bellissima, chi ha fatto le luci e la scenografia non pensando che era pura proiezione virtuale, quindi che non esisteva quello che vedevano, ma aveva preso un realismo che meravigliava anche me, in quel caso di questa singola immagine qui, come vedete la luce e tutto il resto dentro il DBT crea questo discorso di movimento che diventa poi qui, vabbè si va su un performer e diventa un po', questo è un lavoro aziendale, è un lavoro fatto con la tecnologia all'interno di questa azienda e vi assicuro insomma che voglio dire, la particolarità è anche che dentro un discorso scientifico, dentro un discorso così di ricerca, si mette un'apertura che diventa un po' inafferrabile, che può raccontare anche qualcosa di poetico, di vita, di situazioni. Corro un po' perché prende tempo semplicemente per quello e c'è un discorso abbastanza così. Ovviamente questa scena qui la vediamo un attimo. Alcune immagini sono un po' anche un pochino tradizionali perché non puoi molto staccarti da dei concetti. Poi c'è un lavoro sul suono che diventa anche particolare, che ti chiede una messa a fuoco più dettagliata su alcune cose perché c'è un'assenza, quindi ti chiede un ascolto maggiore perché diventi più sottile, poi di colpo riapri con delle cose più... Allora torno su... non so, vi faccio vedere, non so se questo è un lavoro fatto con infocamere. Qui era una copia interna dove l'audio è su multitrace e quindi non è corretto. però anche a livello di immagini e di trattamento rispetto... voi conoscete insomma le camere di commercio, le cose... Non era la copia, ho tre copie, ho scelto il master audio invece che andava missato, ma vabbè, siamo lì, vi faccio vedere in velocità uno dei miei lavori di animazione perché ha un trattamento particolare che questo è fatto sui fotogrammi dipingendolo, l'ho fatto in 3D, l'ho stampato 3D, avevo la copia lì, poi sono andato in maniera materica su tutti i fotogrammi a fare painting che gli dà questo senso di... ... 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 in questo posto, un po' isolato ai confini del mondo, fin quando decide attraverso tutta una serie di storie che entra in crisi perché guardava sempre quest'aereo passare a tutte le ore. Ed è una storia molto particolare perché aveva un'amica molto giovane che andava a trovare, le pascolava delle mucche in questa montagna, una cosa praticamente unica, un pastore donna, questa ragazzetta carina che a una certa ora passavano sempre questi aerei e il suo sogno, poverissima perché viveva in un posto come fuori dal mondo senza acqua, senza robe, non un pozzo, insomma delle robe che sto parlando in questo caso di qualche anno fa, in pratica lei sognava sempre di andare su quest'aereo e quindi muoversi e vedere altre cose, me ne parlava con i genitori, poi vabbè ha avuto tutta una storia che non sto qui a dire perché ormai lei non c'è più per una strana cosa stupida, un incidente, però mi è rimasta questa impressione legata a lei, l'ho un po' trasposta a questa figura fin quando non prende un atteggiamento... Cioè come dire, entra in crisi... L'animazione non è così estremamente curata perché l'ho fatto in fretta, avevo una settimana, ovviamente i tempi erano una velocità enorme, però alcune immagini le ho curate. Questo è un altro aspetto che sono per dire quelli personali, il nuoto... Io l'ho girato e l'ho stampato 3D, però tutti i fotogrammi e poi con un programma di elaborazione di fotogrammi, o questi di paint box per intenderci, sono andato sulle immagini e le ho rese più vicine alla materia più evanescente che mi intrigava. Qui lui si libera da buon... così, uno che rispetta gli animali e le cose, si libera, vende tutti gli animali e corre, se ne va di nuovo, dove stava prima che passava l'aereo, vediamo questo finale e poi andiamo avanti... E mi piaceva questa... tu vedi, c'è un discorso sulle espressioni che fa, molto particolare, che non era tanto sull'animazione i grandi movimenti, lo spostamento, il walk cycle, quello che vogliamo... Raggiunge il suo sogno in pratica, quindi questo aereo parte e va nel mondo, è una trasposizione molto particolare, quindi anche nelle animazioni, nella storia, diventa un po' così... non so se la storia è chiara, tutti quelli che lo vedono, l'hanno visto, eccetera, però per me è sufficiente questo a raccontarla. Allora vi faccio vedere una cosa un po' particolare invece, che noi adesso stiamo lavorando all'ultimo lavoro per la Catalano, che è questa azienda produttrice di ceramica, di basi, che sono, insomma, che adesso vediamo, che diceva questa qualità eccezionale, è un'azienda straordinaria dal punto di vista proprio, oltre che dei prodotti, della qualità, ma non so, sto qui a fare una pubblicità, ma anche dal punto di vista proprio di testa delle persone all'interno, come loro si muovono rispetto alla comunicazione, rispetto a quello che fanno, e quindi io ho una grande, come si dice, entusiasmo rispetto alle cose che faccio per loro, eccetera. Questo è un lavoro che quasi loro non hanno visto, perché è un lavoro recentissimo di test, perché la prima prova è mettere su dei materiali anche che sono a tratti minimamente convenzionali, prima di prendere delle strade un po' più singolari dal punto di vista dell'immagine, del linguaggio, dei prodotti, di tutto, tento sempre di partire da un racconto più o meno lineare, quindi come dire, sviluppo un linguaggio, una specie di storyboard, poi da questa inquadratura che raccontano quella cosa lì c'è un approfondimento, è come se ci sono degli hyperlink di immagini che poi tornano dentro con l'inquadratura e comincia la costruzione del video stesso, poi tra l'altro tutto l'audio è fatto da noi, da me anche, io non sono un musicista, sono uno che però usa i suoni perché mi piacciono, ovviamente ho degli amici che sono dei musicisti che allo stato quando necessitano collaborano perché non sono un tuttofare, come dire, non mi sono mai posto nella condizione di fare musica, fare suoni, posso decidere quello che non mi piace, non mi piace, così, sulla musica, però realmente anche quell'atmosfera mi deve corrispondere, quindi musicalmente se io ti dico ok facciamo le musiche per questa roba qua, poi alla fine un minimo mi deve corrispondere, non voglio dire che le faccio, io però ho chiami delle persone come tutti, non scopro l'acqua calda, che seguono il tuo stile, oppure realmente per la prima prova, io genero dei suoni anche lì autogenerati, oppure spesso usiamo delle loop, usiamo dei suoni preesistenti per dare una linea di idea, e poi avviene anche lì lo sviluppo, quindi questo suono, questa musica non è definitiva, queste immagini non sono definitive, tutto l'impianto grafico adesso non è posizionato, la fotografia, i colori non ci sono, le immagini vanno oltre la tenuta, insomma è veramente un'imbastitura primordiale, diciamo la prima stesura del video, e ci tremo a farvelo vedere perché è un punto di partenza, dalla quale poi non so il risultato, poi se lo vediamo su YouTube capirete anche dove uno può andare, usando anche delle cose un po' che bisogna lavorare per uscire, perché alcune cose sono un po' riconducibili, tipo questa immagine, un'immagine riconducibile, la grafica con il plexus, quello che ti dicevo, non è una cosa molto, diciamo il linguaggio che stiamo testando, che non ho propriamente, vedete le tracce sono separate su nove tracce, non sono missate, adesso l'audio praticamente non c'è, però capire il limite perché tutto ciò spinge molto, molto, va girato, qui devono starci queste figure che sono le figure... grazie a tutti! si passa in velocità, anche queste riprese reali dello spazio, come vedete, in generale io sono molto attento, però sto valutando, stiamo valutando, con Luca, con loro tutti, di se metterle, come metterle, i colori, si farà la fotografia, scegliere, isolare, bianco e nero, grafica, usando plug-in, robe varie, quindi è veramente la prima imbastitura, però all'interno, anche se non verrà mai utilizzata, si può leggere un lavoro molto approfondito che stranamente può sembrare definitivo, perché anche la costruzione che fai sulle linee, fare il tracking, anziché usare plexus, usare plug-in in un certo tipo, chiedono un tempo enorme sulla lavorazione, che se viene scartato, viene scartato, però almeno lo devo vedere in maniera convenzionale, capire se qui è debole, come rinforzare, insomma c'è un processo molto lungo per ottenere dei risultati, e poi questi sono tutti 3D, anche queste ricostruzioni qui, anche questi poi universi strani, perché in pratica dove vengono collocati questi lavori, come vedi le animazioni, questo è un esempio, qualità, pesa, il prezzo, la bilancia, sono banalità che sono dentro un codice, però sono significative, l'immagine non diventa solo rappresentanza dell'oggetto, la grafica non diventa semplicemente elenco di situazione, ma si interagisce con gli elementi, gli dà un peso, gli sposta, gli fa vivere il rapporto al significato, è ovvio che c'è un allargamento di messaggio, e anche a livello di percezione c'è qualcosa di più aperto. Allora, in velocità, se vogliamo, perché magari adesso il tempo è breve, prima di una pausa, se volete delle domande, delle cose, io sono disponibili, altrimenti posso mettere intanto delle foto sotto di altri lavori che passano un po' in velocità. Volevo sapere riguardo proprio l'uso della tecnologia per quanto riguarda le proiezioni dei video e delle installazioni video che ci hai fatto vedere prima. Sì. Volevo sapere proprio riguardo la proiezione a 360 gradi. Allora, riguardo la proiezione, è una domanda, la tua, se posso dire sinceramente, che quello che può sembrare complesso in realtà è molto più semplice. I videoproiettori, tu puoi avere molti criteri per sceglierli, ma fondamentalmente devono posizionare un'immagine di qualità su un fondo. Quindi io mi preoccuperei di più della materia che accoglie la videoproiezione, cioè ribalterei proprio il concetto, perché sai, tu fai una scheda tecnica, chiedi un videoproiettore, normalmente si chiede quello più performante, quindi questo intendo dire che valuti la qualità di potenza della lampada idonea allo spazio. Questo non serve nemmeno avere una conoscenza così evoluta. Io mi auguro che uno poi con l'esperienza acquisisce anche questo dato tecnico, però c'è sempre qualcuno nel service che può risolverti questo problema, quindi potenza, lampada e situazione. Invece non può risolverti come la proiezione restituisce la tua immagine, perché quello è fondamentale. Ogni superficie è narrativa. Considera che l'immagine dove si posiziona e quello che torna è quello che crea il cortocircuito. Il risultato è determinato dall'immagine. La fonte non è altro che qualcosa che di supporto, come dire, la posizione, però se tu usi un fondo nero, anziché un fondo grigio, anziché un fondo rosso nei video, è da evitare perché è il colore meno rispondente all'immagine, a meno che non le fai neanche il nero, c'è anche lì uno studio da fare sulle superfici, io forse questo ti consiglierei, però ci sono anche delle ricerche che puoi fare su delle superfici materiche di un certo tipo, perché ci sono, tipo, ti faccio un esempio molto banale, io trovo straordinario, tu sai il tappeto d'erba sintetico, quello di plastica che possiamo prendere in ferramenta, quel rotolo verde che si srotola, appeso a distanza con le proiezioni o in bianco e nero di un certo tipo, diventa magia pura nel buio, perché diventa una proiezione polarizzata, essendo la materia, diciamo, quest'erba finta, è disposta a una certa distanza, a degli spazi vuoti e a una profondità. La materia diventa volumetrica, ovvero la proiezione appoggia all'inizio di questa plastica, che poi si diffonde all'interno dell'asse di questa erba finta, fino ad appoggiare sul fondo, e voi potete anche immaginare che nella luce, che ha moltissime proprietà affascinanti, che secondo me andrebbero studiate, però c'è anche una proprietà particolare, che è nella rifrazione rispetto alla materia stessa che incontra, di come la particella luminosa si diffonde all'interno della materia stessa, è un po' le luci caustiche all'interno di un oggetto che può essere trasparente, come i vetri, la diffusione proprio della luce, la risposta percettiva è completamente differente. Questo tappeto, se ovviamente tutte le immagini vanno tarate, tipo, vi faccio un esempio banale, che secondo me è da tenere in considerazione. Io personalmente, se devo avvicinare un videoproiettore, c'è un parametro base dal quale non posso prescindere, è che il nero sia nero. Quindi non devo vedere un grigio proiettato. Questa è una prerogativa, questo grigio proiettato, che ti crea uno schermo labile, che ti disegna la proiezione nera nello spazio. Mi toglie la magia lo spazio? Per me le proiezioni convivano con un ambiente. Se io proietto in un muro, metto una persona in piedi lì, la persona non deve avere un bordo dello schermo di proiezione con questo grigio, sono una proiezione di una persona nello spazio. Se io ho un nero, ovvero lo spazio rimane inalterato, quindi non è che vedo i limiti della proiezione, metto una persona lì, è una persona nello spazio, virtuale come vuoi, ma interagisce in una maniera molto più libera. Cioè non vedo i limiti della proiezione, ma questo io non sto scoprendo l'acqua calda, voglio dire che ne siamo coscienti, però è bene sottolinearlo. Quindi si parte dal presupposto di avere innanzitutto questa, diciamo, prerogativa, questa è una regola precisa, non mi piace utilizzare dei proiettori che fanno questo grigio, che sono in particolar modo o gli LCD di una volta, perché adesso l'evoluzione ad alto contrasto li tiene un po' sul nero, oppure semplicemente io prima, anni fa, quando non c'è la possibilità di avere all'interno delle matrici, poi dei proiettori, che sono proprio poi la parte dove passa l'immagine e l'immagine si posiziona, perché voi sapete che l'LCD, per definirla in termini più semplici, non è altro che quasi una pellicola, cioè uno schermo che viene frapposto tra la lampada, passa attraverso questa, chiamiamo quasi una diapositiva, perché l'LCD si configura, lasciamo perdere i prismi interni e tutto il resto della tecnica, che non ci interessa, però diciamo, nella diapositiva passa la luce e proietta, quindi faceva i pixel, faceva le robe, adesso l'evoluzione li ha resi quasi perfetti, però io sono più affascinato, come molti, ovviamente dal DLP, Direct Light Projection, che non sarebbe altro che una serie di prismi interni, completamente mobili, dove la lampada batte, loro posizionandone, riflettono esattamente, sono sempre dicendo in parole povere, quel punto di colore preciso, quindi l'immagine è determinata dalla scomposizione della luce, rispetto alla cromia stessa portante dell'immagine, quindi quello che vediamo è il risultato più attinente, più diretto, poi più sono piccoli questi micropismi, che si muovono digitalmente, la scompongono, e più l'immagine è definita, poi si stanno profilando altre ipotesi, che sono tipo i LED, i LED chiaramente lo possiamo immaginare, è una luce diretta che si posiziona, è affascinante per la durata infinita della lampada, perché le altre sono costose, si oggetta a un inserimento continuo nel tempo, che per me è angosciante, cioè tenere acceso un videoproiettore, quella cosa lì è sempre un po' una candela accesa, che si va consumando, quindi da una parte godo per l'immagine, dall'altra soffro per la fine di qualcosa, quindi è una roba ridicola, perché per me questi oggetti diventano quasi umani, il videoproiettore che soffre, il computer che ha un problema, cioè vanno risolti, vanno curati, c'è un ospedale che li ottimizza, insomma voglio dire che è simpatico questo aspetto di cura che ne prendono, perché in realtà sono delle appendici, sono parte della mia estensione creativa e fisica, devono stare bene quanto me, se sto male io ne rispondono, però questo è divertente, ma all'interno di tutto ciò, ti ripeto, questa tecnologia, ammesso che tu scegli un buon videoproiettore, adesso la potenza, devo dire, comincia a essere interessante anche nell'home theater, quindi puoi trovare 3.000 ansilumene, 4.000 ansilumene, che è una buona potenza, per fare uno spazio minimo, ma in maniera decente, anche ad un prezzo veramente risorio, che può essere una cena ultra sofisticata, con un partner in un posto bellissimo, e invece hai quel videoproiettore lì, se ti sacrifichi, e magari diventi più così tranquilla, su una barca, su un lago, sto scherzando, però realmente da quella potenza, puoi arrivare a situazioni ultra sofisticate, 30, 35, a salire, ansilumen, che ovviamente determinano un risultato preciso, quindi non è che prendendo il massimo della potenza, hai il massimo del risultato, perché questo, a volte io sono stato costretto ad abbassare la potenza, perché l'immagine diventava troppo pulita, non pulita, troppo, non era più poetica, cioè il livello di quello che, uno, poi dipende dallo stile, nel mio caso, devo dire il livello di quello che tento di raggiungere, e quello che voglio raccontare, deve essere quasi sempre un suggerimento, quasi sempre tu devi partecipare, e quindi devi portare l'immagine, dove vuoi tu, d'accordo al mio suggerimento, se io te la definisco, te la proietto lì, tu la vedi netta, parliamo di cinema, parliamo di qualcosa un po' più definito, che ha una storia interna, e una struttura drammaturgica, che parte da altri presupposti, non so spiegarti, a teatro, in questo caso ti stavo parlando del teatro, cioè le cose che mi piacciono di più, sono quelle più evocative, quelle dalle quali io prendo uno spunto, e poi insomma me ne vado per le mie tangenti, non so spiegarti, tipo uno spazio vuoto, e una goccia che cade, questo plic nel silenzio di uno spazio vuoto, questo rumore, e vedere semplicemente questa piccolissima cosa che va, per me è una cosa devastante, piuttosto magari un'orchestra di un pieno, una roba esposiva, però dipende anche lì, insomma in che momento, come lo metti in gioco, come ci arrivi, quindi lì entri in un linguaggio molto complesso, ma normalmente le videoproiezioni, tento sempre di tararle in una maniera precisa, se poi si parla invece di videomapping, cioè su facciate di palazzi, su situazioni lì, uno deve spingere sempre al massimo possibile, perché non hai un pieno controllo della situazione, come puoi paradossalmente non avere nemmeno a teatro, perché tra luci e sicurezza, tra robe varie non hai mai un buio completo, però ce l'hai più controllato, ma rispetto a un impianto che può essere a superficie di una villa, di una casa, col pubblico, con le cose, la luce del comune, insomma ci sono situazioni con le quali devi convivere, e non puoi rischiare, dopo che hai fatto uno sforzo così, dopo che la macchina è partita, che l'impianto economico che ti segue è così sostenuto, non puoi rischiare che le immagini non si vedano, quindi devi sempre avere una macchina che ti dà le possibilità più tranquille, a livello operativo, però nello stesso tempo le devi tarare anche lì, scendi con l'opacity del layer, e porti anche la profondità delle immagini che si susseguono, il layer lo devi ottimizzare, se io metto dieci personaggi, e li voglio nello spazio, in profondità diverse, il trucco è quello di abbassare le opacità, a qualcuno di loro è come se si perdono in questa luce, in prospettiva, queste sono banalità, torno a dire, però sono dentro la costruzione di un linguaggio, un discorso, che poi cade sulle videoproiezioni. Allora, quindi quello che torna a dirti dipende sempre dalle circostanze, perché magari alcune volte non puoi usare un proiettore molto sofisticato, perché hai dei vincoli, vincoli sono quelli di natura anche burocratica, di natura legata alla sicurezza, perché i cavi che ti chiedono, perché il rumore è così forte che nel concerto è improponibile, perché alcune hanno bisogno di raffreddamento sensibile, quindi c'è sempre da partire con una logica, da spaziare dentro delle possibilità, da raccogliere le informazioni e poi decidere di avvalorare un certo mezzo anziché un altro. Però questo fa parte di un processo un po' finale rispetto chiaramente all'idea della concezione e del risultato e sapere esattamente quello che tu vuoi ottenere. Però il consiglio che io ti posso dare rispetto all'idea di proiezione e di rapporto con lo spazio è un consiglio anche molto banale che tu sicuramente hai già attuato, che sai di tuo, però è quello di ogni volta che giri devi tentare di farlo con la precisione di avere un'immagine unica, ovvero ben delineata. Personalmente preferisco girare o su nero, bianco quando c'è bisogno di quella cosa lì o su green screen, blue screen, insomma qualcosa che tu puoi pulire e diventa una figura unica così la puoi collocare dove vuoi e vive nello spazio. Io la metto dentro una finestra, dentro una colonna e non ha intorno dei riferimenti. Quindi pensare sempre a un nero possibile, considerare qua il quadro dell'impianto in generale per le proiezioni come una grande tela e costruire l'interazione come se parliamo di animazione 2D. Quindi l'ec si gira, che fa con la mano, indica in una direzione, metterla precisamente in risposta a un elemento che poi raccoglie questo stimolo e la porta a interagire un po' con tutto il resto. Poi le regole banali, ti ripeto, nella ripresa, poi nello sviluppo e nell'attuazione di questa logica è che il sole è sempre in alto. Se tu lo metti in basso per me significa qualcos'altro. L'erba ovviamente cresce sempre a terra, i campi d'erba, oppure se diventa una tavola d'erba, lì stiamo parlando di una cosa astratta. Cioè il linguaggio è determinato realmente da quello che uno gira, come lo colloca e come poi lo posizioni sulle superfici. Io posso decidere che l'erba cade solo sul nero, qui c'è un rosso che prende la persona, cioè farti queste composizioni a scomposizione, se vuoi, un po' mondriane dal punto di vista degli elementi scenici. Però questo poi ti danno una possibilità molto più articolata e sofisticata nel risultato finale. perché poi la cosa bella è interagire da subito con chi fa le scene, a tratti interagire anche con chi fa i costumi per capire i colori, per capire se sono in scena se la posizione gli cade addosso. Non sempre è piacevole vedere un attore che sta lì, che parla, che canta, che fa e gli si muovano addosso delle immagini. Può essere richiesto come no, assolutamente, lui va pulito, però io ho un'altra cosa che posso dire che mi caratterizza è di non pensare, di non aver mai pensato alla scena come un televisorone gigante. Intendo dire le retroproiezioni per me sono bandite. È una cosa proprio che non capisco perché a quel punto siamo dei fondari, sì, non sono dinamici, però hanno più, questa matericità è più poetica. cioè mettere un televisorone gigante dietro l'attore che io vedo che la materia lui non convive in questo spazio volumetrico che io ho parlato prima, dove la posizione parte dall'inizio, tocca una quinta, sporca un fondale, quindi lui è dentro una materia, è dentro qualcosa di completamente impalpabile, diventa un'immagine onirica, diventa un tutt'uno con questa cosa, se usiamo una tecnologia e il fatto di avere uno schermo in retroproiezione, colui lì francamente, sì, alcune cose funzionano, si mette un cielo, va bene pure, però non mi torna, non mi torna personalmente come linguaggio, posso far interagire le due cose, mettere retroproiezione e proiezione frontale, questo è intrigante perché ti aiuta a volte, avere un'immagine più sostenuta sul fondo, un'immagine più impalpabile davanti, le due cose possono convivere meglio, però profondamente per me la proiezione è qualcosa di importante come tutto il resto, cioè non è che devo dargli un peso maggiore rispetto a tutti gli elementi che sono in scena, però deve rispettare dei codici, deve rispettare un linguaggio, ci deve essere a monte qualcosa che un po' è coerente nell'impianto e la mia coerenza è data da questa scatola virtuale, da questo volume che è veramente millimetrico, cioè dove io faccio posizionare dei layer che sono, ripeto, i filini anziché una banda, anziché una sedia, perché ogni cosa che risponde un minimo alla proiezione, è un punto nello spazio che si accende, sono i point cloud che parlavo prima, quindi mi dà una volumetria, non è una roba sterile proiettata da una parte, ma si configura anche con una prospettiva, aggiunge apertura, diventa più inafferrabile, non so, queste cose vanno un po' anche verificate, perché se le parole io posso dire tutto, nella mia esperienza è fondamentale, è fondamentale che io lo spazio lo sento come qualcosa che ha la stessa densità della proiezione intendo dire come secondo lo spazio, del realismo degli oggetti veri, cioè se tocca quell'oggetto che l'oggetto vive e mi dà vita a questo virtuale che diventa solido, se non lo tocca si appoggia sul fondo, diventa un quadro animato oppure su un fondale davanti, ormai siamo abitati a vedere schermi di tulle con proiezioni trasparenti, così, però realmente poi torna in gioco il linguaggio, dipende da quello che vuoi raccontare, come lo vuoi dire, le possibilità sono infinite, ci sono delle cose interessanti, intriganti di sperimentazione, questi nuovi video proiettorini che adesso sono integrati addirittura in telefonini perché sono led, quindi l'energia è veramente minima, la potenza comincia a essere significativa anche per schermi un po' più grandi, però per questi tentativi su schermi piccolini, ma che fare delle prove reali, non parlo 3D, ma reali, con un piccolo oggetto ricostruito, vedere le angolazioni, sono cose bellissime, noi abbiamo fatto un lavoro con Peppino Mazzotta che secondo me è straordinario, però abbiamo posizionato una serie di video proiettorini molto piccoli da un costo irrisorio che erano tipo poche centinaia di euro ognuno, autoalimentati a batteria calcolando l'efficienza della batteria e testandola, perché non mi fido semplicemente del manuale dichiarato, perché le sorprese sono infinite, ma testandola, mettendo una card interna, sincronizzando tutto il video per ogni camera, erano sei o otto camere, in pratica, che all'inizio dello spettacolo, quando il pubblico c'era, quando si dà il top, quando si dà il via con un comando, partono tutti otto sincronizzati e lo spettacolo diventa indipendente, cioè lui muovendosi si attiva, perché ci sono delle musiche che gli davano i tempi, lui è bravissimo, riesce a starci dentro molto bene, che ci siamo regolati sui suoi tempi creativi, non sui nostri tecnici, quindi diciamo che lo spettacolo mantiene una logica legata alla sua natura di attore, come lui si muove ed è abbastanza, insomma, e gli diamo una flessibilità, perché ovviamente non si può essere sempre uguali, ma ci sono dei top dove lui si aggancia, dove, però, questa sincronizzazione di questi videoproiettorini ti ripeto, ultra economici, con questo video messo dentro, che partiva tutto in contemporaneo, poi lui li gestiva, era a volte su una sedia a rotelle che muovendosi sulla scena la posizione la spostava, la ripuntava di là, mentre coincide con un'altra posizione che sfuma e si attiva l'altro schermino, cioè uno spettacolo completamente automatizzato, sofisticato, ma senza persone, perché era completamente sincronizzato, poi di te è interessante, era questo prima Shakespeare che ho fatto all'epoca, ti parlo di trent'anni fa, dove questa cosa l'avevo già attuata completamente, lo spettacolo era tutto su, in pratica, fatto su un nastro, su qualcosa che partiva e tu non potevi più prescindere, e tutti gli attori si rapportavano a questa cosa qui, ma non c'era praticamente un tecnico, eravamo quasi tutti, neanche la luce era determinata da questa proiezione che diventava più chiara e ti illuminava, oltre che le luci di scena, però questa cosa studiata bene si può fare, quindi come dire, questa qualità e questo prezzo ti permette delle prove, di provare dei materiali, di testare quella superficie che ti dicevo, adesso ti ho parlato di erba, ma sono delle superfici molto incredibili, ti faccio vedere delle cose a questo proposito, parlando di superfici, non so se vado in velocità su alcune immagini, vabbè, queste sono delle installazioni, ma ti trovo delle superfici, Palazzo Althams con tutte le proiezioni esterne, tutta una roba un po' più micò, questo appoggia su una stanza a 360 gradi, molto vento, i suoi capelli che si muovono di continuo, vedi, Palazzo Althams sull'esterno, questi corpi, ovviamente questa finestra è gigantesca, la superficie di questi, chiamiamo corpi messi così che si muovevano e oscillavano un po', sono dei pipistrelli, per me sono i pipistrelli che si attaccavano a tutto il cornicione, era impressionante vedere tutto il museo con questi corpi messi così, questo è una performance dove lei, in realtà, è molto particolare, perché tutto il corpo tipo il seno gli balla di continuo ma lei è ferma, quindi si muove e comincia a muoversi tutto il corpo stando ferma, insomma, sono delle cose che vanno viste, questa è una delle installazioni fatte catalano, Fuxas, dove diventa, vedi, un universo particolarissimo, abbiamo vinto anche un premio su quella lì, ecco qui, questo ti volevo far vedere, le proiezioni sugli alberi, in questo museo, questa in Sicilia, cosa succede? questo era un tramonto inoltrato, non viene fuori da questa ripresa perché è fatta con un oggetto anni fa che non era così sofisticato, quindi la documentazione è veramente minima, non mi ricordo, forse nella natura lo possiamo dedurre dalle foto, qui c'è scritto 2008, ma non è così, questa è molto prima, in pratica, cosa succede? Era un'installazione prima dello spettacolo che al momento l'avevo messa su, ma la cosa interessante di questa proiezione su queste superfici naturali che avevo fatto molto prima su un progetto per Paolo Pasolini a Roma ha fatto l'acquedotto su un campo, allora cosa determina la proiezione su un punto preciso rispetto a una superficie volumetrica di un certo tipo che può essere il fogliame di un albero anziché un campo d'erba anziché una superficie che non è perfettamente piana, cosa determina? Che la visione è polarizzata, la polarizzazione non è altro che insomma una serie di linee per dirla sempre in parole povere che sono allineate diversamente e ognuna risponde a un certo angolo di visione, se noi pensiamo all'effetto 3D degli occhialetti cosa avviene? Che c'è una polarizzazione orizzontale l'altra verticale è un battimento e c'è l'immagine che ti viene proposta che rispetta questo codice quindi in frequenza alternata vedi queste due immagini distinte sfasate che il cervello mette insieme e ottieni questa visione volumetrica automaticamente una superficie di questo tipo cosa comporta? Che l'immagine proiettata se tu ti sposti da una parte che prende la proiezione diversamente perché l'angolo è questo e il laterale non batte ovviamente diventano linee astratte cioè più tu ti apri da quest'angolo di proiezione e più la proiezione diventa luce pura nello spazio che è bellissimo e man mano che guadagni quell'angolo la proiezione diventa effettiva e io lì avevo fatto questa immagine di questa figura di questa dea in quel caso lì lunga di questa donna che partiva dalla terra e aveva una lancia in mano e ti puntava avevi questa mira chiamiamolo e tu vedevi una lama di luce e camminando su questa stradina lentamente la lama di luce cominciava ad aprirsi e coglievi quasi una figura fin quando prendevi la posizione centrale e c'era questa donna che nel campo ti mirava facevi pochi passi a seguire e ridiventava una lama di luce ovvero la spada che lei aveva in mano quindi c'era una tua interazione nell'andare dietro riguadagnarti la figura e l'andare avanti e riperderla questo lo trovavo divertente perché se uno è divertente ma se sono 30 persone in quella fetta lì che fanno avanti e indietro è divertentissimo quindi per me diventava anche un gioco non tanto vedendo il risultato del video scusatemi ma l'interazione del pubblico che la cercava attraverso questo movimento si addossava e di colpo si sviluppava lunghezza così più bassa più alta cioè diventava io non studio anche delle reazioni questo mi diverte scusatemi non è una presa in giro perché è un rispetto totale però mi diverte e queste proiezioni qui se tu le vedevi è ovvio che la distanza ti riduce questa chiamiamola possibilità perché tu più sei distante più la superficie ti muove ed è compatta perché diventa quasi un piano unico quindi anche quello lo devi mettere in gioco come linguaggio in questo caso questi alberi tu vedevi il volto perché erano lontani da una distanza interessante quindi ti dovevi spostare molto per farla diventare luce ma se ti avvicinavi lo spostamento diventava minimo già diventavano astratti quindi li cercavi un po' cercavi di vedere magari il laterale come si vede e diventava luce quindi vuol dire sai le possibilità sono veramente tante io prenderei l'oggetto lo metterei lì lo accenderei giocherei è un po' una specie di così io non so che ora abbiamo fatto se vogliamo faccio non so andando avanti in velocità su questo questo sono le immagini di quelli voglio cercare delle cose un po' differente dalla demo vista e ce ne sono ma vanno tipo quello di prima Don Carlos questo fatto al Marischi quello che vi dicevo a San Pietroburgo se riesco ad aprirlo ovviamente lì il gioco delle esplosioni del mapping delle situazioni vabbè questo è durante le prove vedete le figure dietro le finestre sembrano sono proiettate la superficie non ha questi ferri interni che disegnano la croce le figure sono virtuali cioè è tutto un po' questa natura proiettata è particolarissimo su un nero e ha questo movimento brilla ed è volumetrica cioè il nero ha una densità che passa al belino che gli sta dietro che passa ad un altro e loro sembravano vivere dentro una finestra una foresta concreta di questi rami studiato il colore studiata la dimensione ovviamente la forma il lento avanzare di questa natura che un po' poi li sovrasta li tiene su e tu non te ne accorgi ma si abbassa alla fine li tiene un po' più cioè sono cose che uno mette dentro vedi sta avanzando cioè e la drammaturgia diventa anche quello loro che non vedi la proiezione polarizzata in questo caso e come vedi questo è il coro dietro che non vedi nulla non vedi la proiezione e poi alzano questa scritta che avevano con un testo particolare e diventa questo re che in pratica con la spada va a colpire lui che è qui e poi abbassando questo schermo la proiezione scompare però in realtà c'è sempre ma batte su delle superfici scure l'otterata in layer opacity che si deve vedere su quel materiale ma quando appoggia nel vuoto perché poi non mi va di fare abbajur che appaiono scompaiono c'è il teletaro su un layer tu se le vuoi vedere le vedi se no sei su loro sugli autori però di colpo con una superficie particolare esplodono diventano evidenti a basso la superficie restano lì le immagini anche questo chiaramente presuppone uno studio particolare poi non so danza di cose fatte i miei fili questo sono delle frequenze orizzontali e verticali di luce ma dentro la luce stessa tu non ti rendi conto ma dentro questi canali luminosi ci sono delle luci che generano quella perdita di percettiva che generava perché io lavoro molto su mi piace questa cosa ipnotica quindi dentro questa vedete che la luce è fatta in cosine che salgono sono delle bande più luminose meno in questa foto e anche per terra sono asincrone quindi sono studiate a terra e studiate nel verticale vedete nel movimento questo per dirvi questo questo sembra vero c'è che dietro poi tutta questa la metropolitana di New York ripresa da noi con un'idea di metterla su una cosa di questo tipo e quindi poi è particolarissimo questo suono durante questo spettacolo col passaggio di questa metro in questo momento questo è sempre un discorso di lavoro con loro e tutti questi corpi interagivano con il movimento diventa un grande affresco sul nero molto interessante di tutti loro sul finale quando poi loro stanno facendo questa azione finale è in realtà fine spettacolo quando tutto si completa ci sono tutti loro così con tutti gli arti che si muovono lentamente hanno questa interazione che diventa come una grande materia umana un affresco un movimento non so spiegare adesso quello era il test che vi dicevo quello fatto questo è il letto della storia dell'utilizzo di immagini Maria de Mederos su altre cose vediamo un po' Tosca però anche l'utilizzo di monitor interazioni con i monitor pensate che molti anni fa grazie anche alla genialità di un macchinista che cos'è questo ah vi faccio vedere questo Puglia tutta ripresa qui grazie a tutti Grazie a tutti. 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 E quindi divento amico, che per me è una cosa comunque importante, ma quando vado a girare, loro hanno già una familiarità con me, quindi si muovono dentro una loro normalità di azione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.